La ricorsita c'è. Penso anche che ci sarà meno col tempo, perché c'è anche più trasparenza, c'è meno ignoranza. Questa cosa della ricorsita del canton Ticino l'ho già sentita molto spesso e francamente ho qualche dubbio che sia vero. Tanto è che, se guardiamo le statistiche, il numero di ricorsi che vengono poi effettivamente accolti è alto, il che vuol dire che effettivamente gli opponenti o i ricorrenti di ragione spesso ce l'hanno. Opposizione e ricorso diciamo che è un iter che è abbastanza frequente, specie quando si tratta di un'edificazione di una certa importanza, però succede anche per cose piccole. Innegabilmente c'è un disagio da parte degli utenti della procedura edilizia. Io preferisco ragionare in termini di tempo necessario per ottenere una licenza cresciuta e ingiudicato e constato che in parecchi casi questo tempo è molto importante ed è difficilmente compatibile con legittime preoccupazioni anche finanziarie di chi ha un progetto edilizio e lo vuole portare avanti.